è una delle ultime che resistono all'uso della mascherina anche all'aperto anche vabbè noi la portiamo per sicurezza per sicurezza o per abitudine per sicurezza quindi lei ritiene che con la mascherina così all'aria aperta a distanza lei ce l'ha già avuto il covid come è andata come un'influenza e quindi da cosa la protegge la mascherina da un'influenza c'è sempre qualcosa è proprio il pulmone quando è stata l'ultima volta che ha preso un pulmone ma poco tempo fa non oggi non è rimasta in faccia perché lei ha preso il pulmone cioè proprio lei lo vuole mettere la mascherina anche lei però sotto il mento perché no 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 non so perché dico non c'ho la testa no ma guarda solo sapere la mascherina perché la mascherina no così per uscire quella è quella per uscire quella per stare in casa invece è un'altra più